cosa ne dite di una deliziosa crema al caffè senza panna velocissima da preparare all'ultimo minuto e davvero squisita eccola qua guardate che bella io poi l'ho servita con un po' di cacao sopra è una ricetta davvero veloce con soli tre ingredienti che si prepara in tre minuti per un fine cena estivo, bello fresco ma ovviamente buonissima in qualsiasi momento se vi stuzzica seguite la video ricetta e la prepariamo insieme ed ecco gli unici tre ingredienti che ci servono caffè solubile 15 grammi 150 grammi di zucchero a velo e 200 millilitri di acqua mi raccomando freddissima bella fresca, bella fredda da frigo basterà semplicemente unire i tre ingredienti in una ciotola versiamo lo zucchero a velo i nostri 150 grammi il nostro caffè e l'acqua e poi andiamo a mischiare il tutto e voilà dopo tre minuti più o meno con le fruste la nostra meravigliosa crema al caffè è pronta per essere servita io la preparo in una tazza vado proprio vedete com'è bella bella soffice vado proprio a metterla in una tazza e poi la servirò con un po' di cacao amaro ovviamente è questione di gusti profumo delizioso ecco qua la completo con un po' di cacao e la mia crema al caffè è pronta per essere servita ed ecco qui la mia crema al caffè avete visto è super veloce molto fresca adatta anche alle cene in giardino se vi è piaciuta questa ricetta un bel like sotto il video e ovviamente iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati con ricette super veloci e sfiziose buon appetito grazie a tutti